Se una persona ha voglia comunque di partecipare, lasciare un segno di bellezza qui dentro, anche perché su ogni sedia verrà inciso il nome del donatore, potrà farlo. L'appello a chi vorrà donare e lasciare un segno arriva da Andreina Carpenito, artista e ideatrice del mosaico più grande d'Europa, che si trova nella chiesa di indicatore frazione del comune di Arezzo. Qui ci sono tantissimi modi per poter contribuire. C'è chi viene a tagliare le tessere, c'è chi viene a pulire i giardini, c'è chi ci aiuta nella cucina e nelle pulizie straordinarie, c'è chi viene a fare mosaico. Quindi ogni tessera di questo mosaico dà una contribuzione. E anche donare questa sedia in policarbonato trasparente diventa un modo per dire io sono lì dentro, anche io ho dato il mio contributo. L'idea, una volta ultimato il mosaico pavimentale, è quella di sostituire le panche in legno con delle sedie in policarbonato trasparenti, per consentire a tutti di ammirare meglio il mosaico. L'ultima fatica è stata il completamento dell'altare. Sono arrivati qui praticamente degli americani, un'associazione americana, la Seattle Mosaic, che ha voluto partecipare a quest'opera. E' stata creata apposta per loro un nuovo progetto che io non avevo preventivato, perché comunque lavorando con materiali di riciclo, lavorando con quelle che sono le prestazioni professionali del momento, tutto cambia, no? E quindi abbiamo terminato quest'opera, che è realizzata con 146 rosette realizzate in pasta di vetro, e poi è stato fatto un contorno e contestualizzato nella nuova opera che è dedicata al paradiso, alla bellezza del paradiso. Adesso procedono i lavori per il pavimento negli anni. Sono stati centinaia gli artisti che hanno collaborato a questa opera. La parte pavimentale è ancora ovviamente in corso. Voi eseguite i lavori per non dare fastidio, tra virgolette, comunque al culto, perché questa è una chiesa aperta. Esatto, quindi i lavori iniziano sempre di lunedì, terminano il venerdì sera con le stuccature e negli ultimi mesi siamo riusciti a realizzare le parti laterali della navata centrale. Ora stiamo lavorando su rete proprio per non disturbare quelle che sono le messe del sabato e della domenica e gli spettatori si scioccheranno, i fedeli si scioccheranno, perché vedranno questo albero di 12 metri crescere in brevissimo tempo. Di sedie ne serviranno 110. Al momento ne sono state donate già 25. Come può fare qualcuno che vuole donare o contribuire a questa raccolta? Allora, noi abbiamo attivato una raccolta di crowdfunding sulla piattaforma GoFundMe. La sedia costa 70 euro, ovviamente ci troverete sui social, basta cliccare il Mosaico di Andreina, ci troverete su Instagram, su Facebook e se non altro potete anche andare sul nostro sito che è www.ilmosaicodiandreina.org e lì troverete il link che vi porta alla campagna. Ovviamente noi sul territorio la faremo offline, perché ci sono tantissimi amici che vogliono contribuire, però ecco, i modi sono. Se una persona ha voglia comunque di partecipare, lasciare un segno di bellezza qui dentro, anche perché su ogni sedia verrà inciso il nome del donatore, potrà farlo, perché qui ci sono tantissimi modi per poter contribuire. C'è chi viene a tagliare le tessere, c'è chi viene a pulire i giardini, c'è chi ci aiuta nella cucina e nelle pulizie straordinarie, c'è chi viene a fare mosaico. Quindi ogni tessera di questo mosaico dà una contribuzione e anche donare questa sedia in policarbonato trasparente diventa un modo per dire io sono lì dentro, anche io ho dato il mio contributo.